Tendo sempre a non prendere i rivinciti personali, altrimenti si va a togliere ed offuscare l'obiettivo collettivo. Credo che sia una partita cruciale per noi, come lo è per loro. Sicuramente sarà una partita molto importante e molto bella anche da vedere, perché i numeri dicono che l'Empoli è il miglior attacco e noi siamo la miglior difesa, quindi sarà una bella partita, credo. Quindi poi il campo darà il verdetto. Qualora la permanenza in Serie A fosse avvenuta, sarei diventato un giocatore definitivo dell'Empoli. Purtroppo è successo quello che è successo e quindi è andata a finire come è andata. Per quanto riguarda la partita dell'andata, credo che non tutti i mali vengono per nuocere, nel senso che purtroppo abbiamo perso due punti in malo modo, passando sempre in vantaggio. Però quella partita è stata di insegnamento, perché ci ha fatto capire e leggere e avere una lettura più profonda, più dettagliata e più intelligente della partita stessa. Per quanto riguarda l'allenatore, è un allenatore molto preparato, dove tutti ne parlavano un gran bene. Adesso che lo conosco capisco perché nel mondo del calcio si parla bene del mister. È molto preparato in tutti gli ambiti. Non eravamo gli stessi all'inizio, questo è dovuto al grandissimo lavoro durante la settimana, al grandissimo allenamento e alla grandissima dedizione all'attenzione che ci mettiamo durante gli sviluppi della fase difensiva e della fase di non possesso. La linea inizia a prendere una forma giusta, dobbiamo continuare a crescere e migliorare pensando sempre nella stessa maniera a tutti gli interpreti. Rispetto all'inizio siamo cresciuti tantissimo, ma ancora non siamo alla perfezione. Poi al di là della linea difensiva e del portiere che prendono i meriti sui pochi gol subiti, va dato atto che tutta la squadra, rispetto all'inizio, sta facendo una grandissima fase di non possesso a partire dagli attaccanti. Alla fine della partita vale sempre tre punti, poi è normale che ci saranno delle cose dove l'allenatore attenzionerà e poi in settimana applicherà le contropartite perché loro sono una squadra molto forte, ma la forza dell'Empoli è proprio le giocate codificate che hanno, ormai soprattutto negli sviluppi offensivi, negli ultimi 30 metri giocano a memoria con giocate prestabilite e codificate e riprovate durante la settimana. Quindi noi dobbiamo cercare di non far realizzare queste loro giocate. Credo che il Palermo, al di là dei numeri dell'attacco, dove secondo lei non è all'altezza, credo che quando una squadra affronti il Palermo sia con 11 giocatori sotto la linea della palla. Quando 11 giocatori sono in 40 metri nella propria metà campo è difficile trovare spazi e cercare di portare tanti giocatori dentro l'area avversaria. Quelle poche partite negli ultimi due o tre mesi dove l'avversario ci è venuto a pressare siamo sempre usciti in maniera molto facile, in palleggio, con facilità e quasi irrisoria. Ricordo e faccio un esempio lampante come la partita di Avellino, 11 contro 10, noi in 10, loro in 11, venivano a prestarci dentro l'area di rigore e noi uscivamo in palleggio. Per questo a inizio le ho detto che non ero d'accordo con la sua affermazione. Dopo quella che ho tirato ieri non mi presento più, al di là delle battute. Ogni tanto in allenamento le provo, qualche volta riescono, qualche volta no. Visto la grande distanza, tiratori da quella distanza non ci sono, quindi ho provato a batterla. Non è andata bene, però al di là di questo. Continuerò in allenamento a provare perché ogni tanto riesce. Speriamo che in campionato magari una ne scappa. Sul record di imbattibilità non ci pensiamo. Non ci pensiamo perché è giusto non pensarci, perché poi magari incosciamente vai a abbassare l'attenzione. Quindi lavoriamo, 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 che solo il lavoro porta a una strada. E quindi continuiamo a lavorare così come stiamo facendo, con grande entusiasmo, con grande voglia di migliorarsi tutti e poi alla fine faremo i conti. Io personalmente non guardo né Frosinone, né terza, né quarta. Mi concentro su quello che devo fare in squadra e quello che dobbiamo fare noi. Nel senso che credo che il nostro obiettivo è guardare sempre avanti e non guardare indietro. C'è un detto che quando guardi indietro poi perdi la vista dell'arrivo e della meta. Quindi quando sei davanti non hai nessuno da inseguire. Quello è difficile perché devi essere ancora più concentrato. Dobbiamo essere bravi a guardare solo in avanti per il nostro obiettivo finale e poi indipendentemente da quello che fanno le altre. Caputo forse perché ha un po' più di esperienza. Quindi le giocate durante la partita, nelle porzioni di campo, ci sono a volte delle giocate che un giocatore ha visto e rivisto tante volte durante l'esperienza. Caputo con l'esperienza che ha riesce a capire meglio quando la palla è in quella porzione di campo dove potrebbe cadere eccetera eccetera. Però comunque al di là dei due titolari, Caputo e Donnarumma che sono due giocatori fortissimi, c'è anche Ninkovic che è dietro dal Genova che è un buonissimo giocatore, c'è Krunic che è il tre quarti che l'anno scorso era con me, è un giocatore fenomenale. Una squadra attrezzata bene, forte e ancora più forte grazie al lavoro che fanno durante la settimana che si vede che dietro c'è. Perché ci solidifica quello che facciamo durante la settimana, ci dà certezze sul lavoro che svolgiamo, indipendentemente poi dal risultato. Poi è normale che una vittoria sarebbe troppo bella e entusiasmante per il proseguo del campionato. Però dobbiamo continuare così, magari una partita la giochi bene e la perdi, magari una partita la giochi male e la vinci. Non dobbiamo smarrire quello che abbiamo trovato e stiamo trovando. Stiamo scavando giorno dopo giorno delle risorse e nei momenti di difficoltà è proprio quella la forza, avere un'idea comune e avere un pensiero. Ringraziando la squadra, il mister e tutti quanti di momenti di difficoltà, ne abbiamo avuti pochi quest'anno e quindi sembra tutto bello e facile. Però qualora ci sia un momento negativo, quella deve essere la nostra forza. Nel senso che le certezze che stiamo avendo non le dobbiamo abbandonare. È ancora lunga la strada, è un po' presto, indipendentemente dal risultato, che può essere positivo o negativo. Sicuramente con un risultato positivo vivi con l'entusiasmo ed è più facile molto digerire il lavoro, lavorare bene in settimana con il sorriso. Con una sconfitta è un po' più difficile, però dobbiamo essere bravi e consapevoli che siamo una squadra forte, lo stiamo dimostrando, ma dobbiamo essere altrettanto bravi e consapevoli a capire che si può crescere ancora tanto. Sicuramente per quanto riguarda noi difensori, in una linea difensiva, è bello essere accostati a questi record. Speriamo di riuscire, anche perché poi mi sembra che, non so con Migliorini, ma con Iachini poi si è vinto il campionato, anche in maniera... Sia con Guidolini che... Quindi, sai, magari non c'è due senza tre, quindi se riusciamo a fare questo record anche noi, magari si realizza anche l'altro. Sia con Guidolini